Oggi abbiamo portato una nostra follower a fare apnea con noi per la prima volta Vediamo come se la cava Dopo un po' di teoria e riscaldamento ci siamo buttati in acqua E l'abbiamo insegnato a compensare per non sentire male alle orecchie Ora si va in profondità Prima lentamente lungo la catena Selfie tutti insieme sul fondo Cheese! Poi giù con le pinne 6-7 metri con questa eleganza Niente male per la prima volta Vorresti provare anche tu? Per oggi è tutto, ciao!